come sfodare le cache della ram quindi in questo caso come puoi vedere qua sotto ci sono 21,7 gigabyte se vuoi cancellare così la cache puoi semplicemente riavviare il sistema e tornerà così a 1 o 2 gigabyte di cache oppure puoi semplicemente usare un'applicazione senza sempre riavviare il sistema quindi andiamo direttamente sul link che ti ho lasciato in descrizione che ti porterà sulla pagina del ram map così facendo andremo poi a scaricare il pacchetto rar questo qua quindi scarica ram map questo qua appunto zip clicchi dentro avvia così il ram map.exe facciamo sì una volta fatto ok una volta avviato così il ram map andiamo su empty empty stand by list ed ecco che comincia a scendere quindi se questo video ti è stato utilissimo su come pulire così la cache della ram iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao